Rolex Submariner Starbucks, innovazione e stile senza compromessi. Il Rolex Submariner Starbucks è un modello iconico che rappresenta il perfetto equilibrio tra innovazione tecnologica, design senza tempo e prestazioni subacque eccezionali. Questo orologio, un successore moderno del celebre Submariner Kermit, prende il nome dalla sua ghiera verde Cerachrom, simile al logo della catena di caffetterie Starbucks. La combinazione di una cassa robusta, un quadrante nero elegante e una lunetta verde brillante ha reso il Submariner Starbucks un vero e proprio status symbol tra gli affassionati di orologeria di lusso. Uno degli aspetti più affascinanti del Rolex Submariner Starbucks è la sua costruzione con materiali di altissima qualità. La cassa è realizzata in Oystersteel, un acciaio inossidabile di grado 904L, noto per la sua resistenza superiore alla corrosione e per la sua capacità di mantenere una lucentezza duratura. Il vetro zaffiro antigraffio che copre il quadrante nero offre una protezione eccezionale, mantenendo il quadrante sempre leggibile e privo di imperfezioni. La caratteristica più distintiva del Submariner Starbucks è senza dubbio la sua ghiera verde unidirezionale in ceramica Cerachrom. La lunetta non è solo un elemento estetico, ma svolge anche una funzione cruciale per i subacquei. Essendo girevole unidirezionale, permette di misurare con precisione il tempo trascorso sott'acqua. Questo è particolarmente importante per chi pratica immersioni, poiché garantisce che non si possa accidentalmente prolungare il tempo trascorso sott'acqua, un aspetto fondamentale per la sicurezza subacquea. Il bracciale Oyster è un'altra delle caratteristiche iconiche del Submariner Starbucks. Realizzato anch'esso in Oystersteel 904L, offre un mix perfetto di robustezza, comfort e raffinatezza. Il bracciale è dotato di una chiusura di sicurezza Oysterlock, progettata per prevenire aperture accidentali. Una caratteristica essenziale per chi indossa l'orologio in condizioni estreme o durante le immersioni. Che tu sia un subacqueo professionista o semplicemente un amante degli orologi di lusso, il Submariner Starbucks è una scelta eccellente per chi cerca prestazioni impeccabili e uno stile che non passa inosservato.